Allora, Franco, parliamo di questa tua esposizione, questi quadri che ci sono qui, sono particolari. Che cosa rappresentano? Allora, questa qui è la prima mostra dopo vent'anni, è una collettiva che faccio dopo vent'anni. Mi hanno urlato sempre contro perché non faccio collettive con i miei amici, sono sempre andato alle loro vernissage, alle loro cose. Stavolta mi hanno coinvinto in tutte le lingue del mondo, una donnina mi ha fatto cambiare idea. Allora, questi personaggi che normalmente sto utilizzando da 15 anni, forse qualcosa in più, sono un percorso che sto facendo forse da 25 anni. È un unico personaggio che mi serve per raccontare tutto quello che capita a me, che vedo, insomma, quello che mi appartiene. Tutto quello che riesco a mettere nella mia essenza, nella mia anima, nel mio cuore, prima o poi ritorna sulla tela. E questi tre personaggi, abbiamo detto lo stesso personaggio, ok, ma cosa raccontano di te? Allora, questi personaggi sono quello che per Walt Disney era topolino, per me questi personaggi li uso e li sfrutto per raccontare le storie. Le storie racconti. Storie che tutti i giorni ci capitano, tutti i giorni tutto il vissuto di, mio probabilmente, il 90% sono storie mie, però se c'è una persona che mi passa un'informazione abbastanza forte e potente, prima o poi arriverà dentro. Qui che cosa ti hanno, qual è l'informazione che ti è passata, che ti è arrivata? Qui sono tre personaggi, allora, questo qui, l'idea iniziale è stata di, pensavo a Pavarotti quando esce fuori con questo straccio che era di 12 metri quadrati, doveva diventare lui. Dopodiché, quando penso che un cantante lirico è estremamente serio, posato, estremamente ligio al suo dovere, comincia a truccarsi in tutte le fogge e diventa un pagliaccio. Quindi, ecco, ho pensato a Pavarotti, un pagliaccio moderno che tutti pagano, non come il pagliaccio vero, ma come un pagliaccio, uno di quelli lì importanti, diventa il personaggio, il motore di questo quadro.